Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video siamo tornati qui con un'Indonesia che sta maltrattando Timor-Est e Timor-Est in Australia che si vede pian piano sconfitta dai ribelli. Ma dobbiamo riprendere la nostra missione e andare avanti nel tentativo di recuperare i terreni persi. Bene ragazzi direi che come ce l'avevamo lasciati nello scorso video prima pensiamo ai ribelli e poi pensiamo all'Indonesia anche perché l'Indonesia c'è tantissimo da fare quindi anche lì ci sarà da divertirsi. Bene purtroppo le dimensioni dell'esercito non sono quelle da me gradite però ce le faremo andare bene dai. Purtroppo l'attacco dell'Indonesia non lo possiamo fermare e neanche l'attacco di metà dei ribelli. Letteralmente i ribelli ci hanno fatto abbastanza danno anche perché il problema dell'Australia è che non si recluta. Cioè avessimo potuto reclutare bene almeno decentemente avremmo potuto finire qua questa questione ma purtroppo non è possibile cioè letteralmente sapete che mi conviene fare? Devo andare in qualche posto buono vicino all'Australia e che cosa c'è di isole mie qua? Questa qua tipo. Il porto c'è? Sì. Mi recluto con coscrizione 2000 truppe e me le muovo qua cioè è l'unica. Uno, due, tre ok sì per forza tre turni mi servono. Perché non ho assolutamente idea di come andare a sconfiggere i ribelli che sono da tutt'altra parte quindi preferisco fare con calma e con ordine e provare in tutti i modi a fermarli. Vediamo. Qui con discreta fa... Oh mio Dio non ci sto credendo. Basta ragazzi è resnervante così. E' sorta un'altra ribellione in Australia cioè letteralmente non ce la vogliono lasciare. Fortunatamente qua si reclutano 90 unità. Qui 46 cioè almeno un minimo di qualcosa si può fare. Ma in alcuni punti proprio no ragazzi proprio manco a brodo come si dice alle nostre parti. Non ne vogliono proprio sapere di lasciarci stare. Va bene andiamo a sedare la prima ribellione che già ne è scoppiata un'altra però vabbè. Ah vero ma come se non bastasse in tutto ciò? Abbiamo un'altra questione noi. Se abbiamo fatto sbarcare le nostre truppe in Indonesia quindi dobbiamo anche badare a loro ora. Andiamoci a consumare i punti di diplomazia. E così facendo però non ho più soldi se mi servono soldi sono fregato. Qui andiamo a distruggere la cosa. Qui attacchiamoli. Qui non posso fare nulla. E attacchiamoli anche qua. Pian piano li devo andare a prendere però. Bene 31.000 truppe sono sufficienti per guardarci negli occhi. Vabbè ma adesso qua recuperiamo in un attimo cioè non ci vorrà niente a recuperare tutto. Il problema era reclutarle le truppe. Una volta che le ho tutte non ho alcun problema a distruggerli. Comunque volevo dirvi che la guerra degli iscritti non sta arrivando per ore e non arriverà per un po' perché prima devono finire alcune serie e dobbiamo anche ricevere ancora degli stati perché qualcuno purtroppo è più lento e quindi ci sta impiegando un po' di tempo in più. Ma molto a breve le iscrizioni si dovrebbero comunque chiudere quindi chi ancora non si fosse registrato di quelli che hanno avuto la spunta lo vadano a fare subito. Perché se scade il tempo poi non vorrò poi avere ripensamenti di vi aggiungeremo lo stesso anche se non avevo detto che non lo facevo. Le regole sono regole quindi se volete far parte della guerra degli iscritti dovete impegnarvi voi. E non ci credo ce ne sono ancora. Vabbè però forse questi sono vicino a Camberra e li possiamo fermare vediamo. 110 unità almeno. Il problema è che veramente se qualcuno ha la pazienza di farlo lo ringrazio. Ditemi quali zone dell'Australia sono state attaccate di preciso i territori attaccati perché scusate perché secondo me nessuno dei territori è stato graziato forse. In ogni territorio c'erano ribelli. E ancora guardate quanti territori da assimilare ci sarebbero. Vabbè fortunatamente... No fortunatamente nulla cioè letteralmente ci sta andando tutto male. Cioè abbiamo ancora quanti ribelli? Uno qua, un gruppo di ribelli qua e un gruppo qua. E poi rimangono solo questi qua sotto che dobbiamo fermare nella vecchia maniera. Wow comunque quando ci si mettono nei momenti giusti i ribelli sanno essere più stressanti degli stati normali. Cioè guardate quanti turni preziosi stanno consumando. Perfetto dai. Nonostante ciò adesso facciamo un piccolo turno di ricognizione in Indonesia. Tutte le forze ribelli ad esclusione di loro sono stati distrutti. Quell'unica truppa verrà risparmiata spero. E non ci credo sono arrivati anche nell'isoletta. Vabbè ragazzi state assistendo a qualcosa di clamoroso credo. Cioè non ho mai visto sorgere così tanti ribelli di fila. Ma Timor-Est sembra il posto preferito per essere bersagliata dai ribelli. Ripresa Melbourne poi ovviamente già preparo un mega esercito di 300 persone. Proprio letteralmente l'esercito più piccolo che abbia mai affrontato. Perché no quella truppa resterà in campo di battaglia. Deve farsi le ossa e affrontare le difficoltà. Però queste 1500 che sono qua se la possono andare a prendere l'isola. Tocca a voi avanzare e conquistare il resto. Finalmente anche questa ribellione è stata sedata. E ora pensiamo all'isoletta. Bene qui a Canberra li mandiamo qua. In City of Lounceston. Va bene l'isola, la loro isola principale credo sia la principale è caduta. E non ci credo ce ne sono ancora ragazzi. No ma non ci sto credendo. Cioè ragazzi ma sono ovunque. Cioè ma sono letteralmente ovunque. Cioè non si stanno volendo fermare. Cioè gli sto assimilando tutti i territori ma non si stanno volendo fermare. Non so davvero che fare perché ci ho provato in tutti i modi possibili ma letteralmente continuano a sorgere ancora ribelli. Io non lo so, gli devo dare un'altra assimilata forse. Poi qui volete farmi la cortesia di finirli. Ci vorranno 7 turni per arrivare qua. 8 per arrivare qua. Sapete cosa? Diamogli un turno di pausa, di pace a questi. Un'altra ribellione sedata. Tanto ora ne arriverà sicuramente un'altra. Importantissimo costruiamo un porto noi qua. Con il nostro denaro perché sì. E poi proviamo a sedere l'ultima rivolta sperando sia l'ultima. POV, le altre 8 che stanno per arrivare, be like. Quell'unica truppa in schiena non so che cosa deve fare. Signori, momento storico? Non è vero. Perché un'altra ribellione ancora è sorta. Davvero, ragazzi, non so a quale santo rivolgermi. Perché letteralmente stanno sorgendo ribellioni dovunque. Vabbè. Altra isola indonesiana che credo sia anche l'ultima. No, non è l'ultima. Neanche questa soddisfazione possiamo avere. Arrivati a questo punto, allora. Torniamo. Di qua. Davvero, non ho minimamente idea di come questo sia possibile. E per giunto ho finito i soldi. Quindi, per questo turno, neanche le ribellioni potrò sedare bene. Cioè, neanche posso preparare un esercito pre-ribelli per dire li sconfiggiamo con questo esercito. Perché letteralmente non fanno manco le ribellioni da una provincia. Fanno ribellioni da dieci province che sorgono in aree enormi, territori grandi, così sono anche più difficili da attaccare. Ragazzi avete presente fatto apposta, ecco. Se avessi modo di vedere quanti ci sono morti per colpa dei ribelli, forse rimarrerei anche scioccato perché a poco a poco, a migliaia e migliaia mi sta costando a momenti più della guerra normale. Infatti adesso distruggiamo anche questi, forse questa volta sì, potranno essere gli ultimi ribelli. Ma non dimentichiamo che abbiamo una missione parallela di maggiore importanza come invadere l'Indonesia. Ok ragazzi, è il momento di fare la pace, perché onestamente mi sono anche rotto. Andiamoci a riprendere quello che è nostro, ovvero tutti i territori di qua. Pure questo è nostro. Possiamo fare così. Questo anche è nostro. E il resto di quest'isola è nostra. Credo di non aver dimenticato nulla da chiedere. No. Pace? Che è stata fatta? Quindi finalmente, anche la questione indonesiana è stata terminata? Ormai l'Indonesia, vabbè, è più un gioco che altro. Curiosità, ci sono dei ribelli ancora, hanno una sola provincia. Per curiosità, dove sono sorti questa volta? Non credo siano in Europa. No, ma li devo trovare in qualche modo. Non so come trovarli, cioè. Magari sono in un territorio così piccolo che neanche si vede. Oh, hanno preso però un territorio da 5 stelle. Cioè, non da 5 stelle il governo, vabbè. Territorio grosso, però. Adesso nasce la ricerca dei ribelli? Bello che se non li trovo, non posso nemmeno fare qualcosa. Ma dove sono a Cuba? Eh, ragazzi, non riesco a trovare i ribelli, neanche impegnandomi. Deve essere in qualche isola, tipo Pago Pago. Aspetta, se fossero veramente a Pago Pago, no, non ci credo in caso. Io sto guardando la mappa, ma mi pare tutta blu. Ribelli. Chiedo gentilmente di sapere dove siete. No, ragazzi, il bello è che li devo trovare, perché se non li trovo sono fregato. Rischio di perdere a casissimo un'isola. 5 stelle, però, non sono poche, quindi devono essere in qualche posto grande, in qualche territorio grande. Allora, provo a dare un'altra, no, così non si riesce a vedere manco se mi impegno. No, ragazzi, è una cosa di principio che li devo trovare. Oppure aspettare che mi attacchino loro. No, vabbè, dai, non ne ho idea. Questi non li troveremo mai. E allora noi con calmissima ce ne sbattiamo altamente e neanche li consideriamo. No, ragazzi, ma sono troppo curioso. Come devo fare a trovarli? Per giunta mi hanno fatto 799 di danni. Questo significa che era un'area occupata? No, sono in Giappone. Preferisco non commentare, davvero. C'erano in Giappone e non me ne sono accorto. Ma no. Ma dai. Ecco, ora andiamo a recuperare moltissima stabilità. Quindi per adesso, credo farò un po' scorre i turni e sono tornati. No, ragazzi, nell'isola Stecco sono andati. No. Cioè, questa è la mia isola è stata. C'è stata l'isola a forma di omino. Ed è stata solo mia per tutto questo tempo. Cioè, sono morte altre 819 truppe qua. Ah no, sono persone, non truppe. Cioè, nel senso, sono civili, vittime civili. Che non rende la cosa meno drammatica in caso, però... Dai che pian piano stanno salendo i numeri. Le città da assimilare diventano sempre meno. Pian pianino il 71% che abbiamo ora non esisterà più tra uno o due turni. Anche se come video sta avvenendo... No, vabbè, non ci credo. Un'altra volta. Un'altra volta loro. No, questa volta però siamo pronti. Io ho paura per la truppa. Se ammazzano la truppa è un problema. E non posso neanche andarla a recuperare in caso. Quindi, devo coprire subito gli angolini della truppa. Ragazzi, finché la truppa è viva c'è speranza. Presto, andiamo a salvare. Io preferisco davvero rischiare qualunque cosa, ma devo proteggere la truppa. Nuova missione secondaria. Che nei giochi amano mettere questo tipo di missioni. Se la truppa muore andremo a rilasciare un vassallo. Ovviamente a meno che non gli sorgi una ribellione sopra, ecco. In quel caso, beh, gg per la truppa. Che se l'è cillata finché poteva. Andiamo all out con tutta la nostra forza. E distruggiamo violentemente la ribellione. Con l'ultimo attacco. Curioso di capire... Ecco, il reclutamento sta migliorando, dai. Rimane l'ultimo esercito a sconfiggere. E ora possiamo tornare serenamente a privarci del combattimento ai ribelli. Stavate dicendo qualcosa? Stavate festeggiando per caso? Vabbè, ma una provincia si può sconfiggere subito. 68 unità le abbiamo comunque perse. Allora, ragazzi, adesso per curiosità personale. Abbiamo 1667 truppe. Che formeranno adesso il corpo di liberazione dell'Australia. Non recluterò più truppe dove è possibile. Le porto tutte qua. E saranno loro d'ora in poi ad occuparsi delle ribellioni sorte. Soltanto la truppa avrà l'onore di non combattere. Ma sarà, diciamo, una special guest. Voglio vedere in quanto il comitato delle truppe cade, crolla, cioè non ha più energie per combattere. Modalità mappa, esercito. Ok, qua no. Queste sono in Giappone. Ok, no, vabbè. Ma no, dai, ma andiamo a mogliele tanto. Tanto per far qualcosa, per passare tempo. Almeno la serie diventa più divertente. Come se già non avessimo abbastanza da fare. A proposito, se state guardando questo video, spero proprio di sì, perché, hey, ci ho dedicato il mio tempo e quindi sarebbe bello se lo guardaste. Sto svolgendo un esame proprio in queste ore, verso le due mi pare, due e mezza. Quindi auguratemi buona fortuna perché potrebbe servirmi. Anche se quando c'è un esame dovete sempre e solo contare sulla vostra bravura. Ecco, ho fatto un'altra volta la morale. Come faccio sempre. Magari mi odierete anche per questo. Il corpo di spedizione di liberazione dell'Australia. Che chiameremo Comitato dei Canguri, detto anche COCA. Vabbè, un acronimo più simpatico come lo potevo pensare, in effetti. L'acronimo, non so se è bello, però il numero di truppe sì. Più di 6.000. 6.100? E ancora non sono fin... Ok, le ho tolte al Giappone e me l'hanno fatto pentire già. Vabbè, ma queste resteranno in Giappone. Non mi metto a creare Comitati di Liberazione a ogni truppa che esiste. Io vorrei adesso passare ad altre cose, tipo... Ehi, abbiamo ancora mezzo mondo da annettere. Ma non posso. Ora sì, mi sa. Bene, dove si recluta bene? Popolazione reclutabile. Abbiamo un 4.000? Uh, in Sicilia, a Catania. A Catania si recluta bene, reclutiamo un po' di arancini. Su, arancini tattici nucleari. No, non è vero. Non offendiamo gli arancini che è come bestemmiare. Mi raccomando, se a voi avete offeso gli arancini, andatevi subito a confessare dal vostro prete di fiducia. Perché è reato. No. Di nuovo, no. Di nuovo il Madagascar, no. Ragazzi, a quanto pare, i simpaticoni del Madagascar hanno scelto di essere loro, il prossimo nemico, da attaccare. Bene, nel prossimo video avremo sicuramente il nostro bel da fare. Più? Aspetta, dall'armeria c'è. L'assimilazione continua c'è. Ragazzi, forse possiamo sfruttare quest'isola per un po'. Vediamo se le 1.6 aumentano. 1.028, ok. Possiamo creare qua un buon esercito. Facciamo di tutto, proprio fortezza, torre di avvistamento, fattoria, officina. Di tutto ci faccio in questa città. Festival. Investimenti in denaro. Gli investimenti sono andati bene. 1.801 monete. 1.800 unità. No, non basteranno ne ore né mai, vabbè. Torniamo in Sicilia. Torniamo a metterci i nostri uomini. Oh, 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 oh. Vedo che quest'area è appena diventata la nuova area gloriosa. Bene, bene, bene. A quanto pare, la nostra sete di sfruttamento truppe non è finita qua. Però questo sarà l'unico esercito che creo. Non mi indebito un'altra volta come l'ultima volta, ragazzi. Ve lo sognate? 15 secondi dopo, no, no, dai. Scherzi a parte. Mi sono indebitato troppo e ho bloccato la serie per troppo tempo l'ultima volta. Quindi stavolta ci andiamo un po' più cauti. O come si dice dalle nostre parti, facci liscio. Che significa, appunto, tratta dall'apposito gioco delle carte. E se siete arrivati fino a qui, commentate con le carte. Scritto tutto attaccato a stampatello senza mettere una lettera minuscola. Nel gioco delle carte, andare liscio significa semplicemente evitare di giocare un carico. Ovvero, una di quelle carte comunque pesanti in quanto a punteggio, come può essere un asso, oppure il 3 a briscolo, oppure il 7 a 7,5. Cioè, è una carta importante, va. Anche se a 7,5 non si butta il carico, vabbè. A 31 può essere una figura, ecco. Questi giochi qua. Ecco, calare il carico comunque significa usare una di queste carte grosse. Quindi, facci liscio significa, usa una carta di valore inferiore, se non nullo. Come nel 3 a 7. E va bene ragazzi, dopo la parentesi delle carte, il video finisce qui. Il Madagascar ha deciso di fottersi da solo, e noi lo accompagneremo in questo suicidio. 32 province contro le 344 di Timor Est, che non capisco come ancora non siamo primi al mondo. Ah, la Cina ci batte ancora per un bel po'. Forse la Cina ragazzi è una nazione bestiale, vediamo. Ok, la Cina, ma non sapete cosa, la Cina non ha fatto niente. Ah no, ha distrutto l'India, ok. Ma, aspettate. Ma no, ma l'India è diventata bruttissima. Cioè, è diventata un micro, un micro è diventata. Cioè, l'Eritrea, chapeau. La Russia è arrivata fino a qua. Il Pakistan. Questo è il Chonkistan ragazzi, il Pakistan enorme. Boh, vabbè, ne ho viste di cose folli. Lasciando stare tutte queste cose, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per seguire le novità. Lasciate tanti, tantissimi mi piace. Passate dal server Discord, dal canale Twitch e dal canale di Giuseppe Novelli. Autore della copertina di questo video. Vorrei capire dove c'è attaccato il Madagascar. Aspettate che... 27. No, ragazzi, ci hanno fregato un territorio. No, ora devo trovare il territorio fregato. Non ditemi che mi hanno fregato quest'isola, no. E cosa hanno preso allora? C'è un solo modo per capirlo al volo, ma lo devo capire per forza. Ok. Va bene, ci vendicheremo anche per questo affronto qua. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto, dicevo. Ignoriamo tutto il resto. Iscrivetevi al canale, già l'ho detto. Passate dai server Discord, che sono due. Dal canale Twitch e dal canale di Giuseppe Novelli, che probabilmente avrà fatto la copertina di questo video. Detto ciò, è davvero tutto. Noi ci vediamo con un prossimo video! Grazie!